16 condanne e 3 assoluzioni nel processo sugli scontri in Valsusa, nelle manifestazioni del 2015 contro l'alta velocità, il movimento Notav annuncia ricorso. 16 condanne e 3 assoluzioni, così si è chiuso a Torino il processo a carico dei Notav per i tafferugli in Valsusa del 28 giugno 2015. Le pene da 4 mesi a 3 anni e 10 mesi. Enrico Bona. Questa sentenza cambierà qualcosa per quanto la riguarda? No, perché ne ho già anche altre, ma quello che mi resta da vivere io intendo di spenderlo davvero per far qualcosa, perché questo mondo noi non lo lasciamo completamente devastato a chi verrà dopo di noi. Il movimento Notav da 30 anni lotta e continuerà a lottare. 73 anni, insegnante di greco in pensione, Nicoletta Dosio è stata condannata a un anno, 8 mesi e 10 giorni di reclusione per gli scontri del 28 giugno 2015 a Chiomonte, in cui rimasero feriti 4 agenti di polizia. Insieme ad altri militanti storici del movimento Notav, condannati questa mattina a Torino, ha partecipato a un presidio davanti alla sede della prefettura in Piazza Castello. Un modo per ribadire che il movimento non si fermerà di fronte alle sentenze, né ai fogli di via o agli avvisi orali. Una presenza più che altro simbolica, poche decine di persone partite dal Palazzo di Giustizia. Le pene nel complesso sono severe, dai 4 mesi ai 3 anni e 10 mesi. Tre gli attivisti assolti, per gli altri gli avvocati hanno già annunciato l'intenzione di presentare ricorso.